Vediamo se dobbiamo trovare qualcosa oggi o se devo bestemmiare, eh? C'ho un po' dei sordi, comunque, se ce pensi. Sì, anche perché mo' prossima settimana c'è la Weekend League, poi prossima settimana facciamo le qualifiche, vediamo come sono queste qualifiche. 19! Fammi vedere i pacchettini. 81... Ammazza, 10 giocatori oro con ballo dal suo, 81 superiore, premium... Vabbè, sono tutti pacchi fissi. Bon, top. Tutti pacchi fissi, quindi non c'è fretta, possiamo andare a vedere la squadra. Ah. Eh, non c'è stanno, ragazzi. Ah, no, non c'è stanno proprio, ma dove stanno? Luciamo rientrare il volo un attimo da Ultimate Team. Ah, eccolo. Belling, Amalvarez, Ladiani, Frimpong, Romero, Cerchi, Doku... Oh, ammazza, carini, oh. Non ho ancora aperto i premi Rivals, no, ce li ho qui pronti. Ma fammi vedere SBC che c'è sta. C'è Diogo Giota. Non bellissimo, Diogo. Solo lui è uscito. Se ne è uscito solo lui. Trasferimenti. Mo, ma che svolta! Bellingham, Amalvarez, Diany, Frimpong, Romero, Cerchi, Doku... Ah, ma Di Bala mi sa che è mini release, eh? Di Marco, Watkins, Claudia Pina, Sesco, Bjorn, Estaguoyo, Lang, Koch, Moise Ken, Van de Beek, Poche e Andre. Vabbè, Bellingham. In realtà ce ne stanno un paro molto carini, pure Doku, secondo me tanta roba. Vediamo. Magari a trovare qualcosa, regà. Alvarez pure è mezzo simpatico. Beh, una robetta sarebbe da trovare. Questo che è 5 oggetti giocatori di cui uno 84 o più... No, apriamo prima la merda. Apriamo prima la merda e poi andiamo a salire. Michel Merino, e chi cazzo ha mai trovato? Ma come 27k? Ma com'è possibile? Ah, ma è tipo stack con il price. Dai, dacci qualcosa subito, forza, facciamolo facile. Capirai, il drop rate è una merda senza niente, figurate quei giocatori. Ma come state in coda? Ma magari a trovare Bellingham, regà. Farebbe rite. Ma io non troverò un cazzo. C'ho troppi soldi. Cioè, il problema è che c'ho troppi soldi. Dovremmo fare una squadra, ma non mi va di fare la squadra. Mamma mia, sti pacchi. Porco Giuda, che pacchi. Boh, guarda, io mi trovo meglio con FCGG in realtà. Cioè, sì, ciao, con FootGG piuttosto che Footbin. Sembra fatto meglio. Ovviamente scambiabili sono trovabili. Bruno Guimaray esce. Però abbiamo 68 di velocità. Infatti, infatti è una merda. Ultimo pacco rimasto di questi, eh. Manca un walkout. Buono. Cioè, mi rimangono solo i 600. E questi che sono tutti non scambiabili, che sono un po' più ciotti. Però, insomma. 5 giocatori horrorari, di cui 1,84 più garantito. 3 oggetti bonus, versione, ma che è in prestito. Vabbè, apri sti due, dai. Capiamo sti due come so. Bene, ottimo. 84 più, eh. Walker. Walker, pezzo di merda. Mamma mia. Dai, almeno un walkoutino. Su, dai. Ok. Egerberg. Buona. E ancora devo trovare un walkout decente su sto gioco, comunque. È imbarazzante sta cosa. Cioè, non ho ancora trovato un walkout bello. Ma apriamo i 600 e poi ci stanno quelli che in teoria dovrebbero essere un po' meglio. 80... Ma sto, 10,81 più questi, eh. Horrorari con valutazione 81 più superiore. Minchia, tanta roba. 20 oggetti e 80 più. E allora apriamo prima i prime e vediamo come va. Almeno uno vorrei trovare, oh. Se è possibile. Mamma mia che drop. Porco Giuda. Ma voi state off, regà. Non vi fa entrare. Vitigna. Questo ho trovato uno, uno. Ho trovato là. Su tops. Buono. Premi delle rivals l'ho lasciati per... Per farli... Per vedere... Per aprirli insieme oggi. Vabbè, dai, su. Una piccola coda, ragazzi. Dai, alle poste. Va a collare, dai. Oh, con la te non male, eh. A 17k, boni. Manda al club, il grande, va. Oh, però sti packing possono essere veri, oh. Ok. La paciorra. Non so quanto costi... Però è forte lei. Da quello che ho visto è molto forte. Cazzo, 15k. Infatti, ma prezzo SBC, più o meno. Mamma mia. Che brutti pacchi, oh. Finiti. Banno appi i premi dei rivals, va. Un pacchetto 35, 75 più. 15, 75 più. Team of the week, 82 più. Due pick. Mega... Au. 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 I pick sono scambiabili? Minchia, tanta roba, oh. Tanta roba. McAllister. Dai, per favore, oh. Non posso, non posso trovare niente, niente. Figa nei pick, culo nei pack. Ma io al culo nei pack, frate, non ce l'ho. Cioè, non ce l'ho. Trovo un cazzo da inizio gioco. Oh, è una settimana che sto... So quasi dieci giorni che shop ogni giorno qua, oh. Il miglior giocatore che ho trovato è mendio. Dammi il team of the week, è scambiabile questo? No. E dammelo. Buono. Diecimila crediti almeno. 15 giocatori... Ah, questo è scambiabile, questo è non. Apriamo prima quello scambiabile. Ma che cazzo è? Io non so, quest'anno c'ho proprio una sfiga abominevole, cioè... Non ha gasato per niente. 10,81 più che in teoria è mezzo umano. 35,75 più. Diciamo un po'... Vabbè, questi sono buoni tutti per SBC, insomma. Che te devo dire? L'hanno pure i giocatori forse semidecenti, devo vedere se ce l'ho. Ah, ok, questi qui ce l'avremo. Tipo, Nugnez, quanto costa? Vabbè, 4.000 crediti, buono. Vernero, metti sopra. Mamma mia. Bellissimi! Anche oggi, buono! 20 giocatori, 80 più, di cui 3,83 più. Quello apro per ultimo, che devo fare? È il primo primastro di due. Vai! Walkout è walkout. Kimmich. Non bello, però. Mamma mia. Mamma mia, porco Dio! Malissimo, frate. Che cazzo che devo dire? Questo passa al convento, ragazzi. Il pacco migliore di oggi. Mamma mia, ottimo. Mamma mia. Per uno, almeno. Che la bacia. Buona. Mamma mia, ragazzi. Che pacchi. Porco Giuda, che pacchi, frate. Mamma mia, me scenne proprio. Eh, raga, che problema c'è? Troppano i 7,5. Oggi tocca annate 7,5. Facili. Sti pacchi, veramente, mi stanno a mannare manicomio quest'anno, eh. Sto poco a rosicà. Ma veramente ne è stata romper cazzo a me perché sto apri i pacchi e voi non riuscite a entrare. Se volete esco, eh. Faccia la coda con voi, eh. Mamma mia, piuttosto di aprire sti pacchi mi faccia la coda, oh. Mamma mia, che pacchi! Porco Dio! Vabbè, per ora 700 vi posso spennare in caso se vogliamo provare Sonif. Certo, io Vinicius l'avrei provato pure volentieri, però di un milione e mezzo mi pare troppo. Il fatto è che secondo me si abbassa difficilmente. Vinicius si abbassa solo se nerfano lo sprint boost, che tra l'altro speriamo perché io manco lo faccio. E'iamal! Buono! Sì, lancio una sfida, però riesci a rientrare dai server, se riesci a rientrare sono 10 sub. Subito. Caccia va! White list! Eh, vabbè, 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 lo faccio, lo faccio. Che problema c'è? Vabbè, ma se devo aspettare un attimo, aspetta. Lo potevo fare quando mi arrivava la pizza, almeno nel frattempo mangiavo, tipo. Come dà l'errore? Ma dà ma la coda, oh. Oh, attenzione! C'è un po' di fila ai tornelli, ma non temere, sarei presto all'interno dello stadio. Aspettiamo. Oh, no. Oh, aspetta, 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 fermi! Dai, che forse in draft lo potremo buildare, aspetta. Allora, vai. Vabbè, Futre gioca pure punta, vè? ATT, l'Ansen, no, vè? Ok. Stava a gioca punta? No. Vabbè, se abbiamo Futre... Nugnez! No, ragazzi, dai, dai! 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 Ma che draft so! Attenzione. Ah, regà, dobbiamo fixarlo. Bellingham, quello nuovo, va approvato. Quello mi dà la liga. Oh, Futre che mi dà la liga, attenzione, però. Allora, abbiamo Kovacic. Futre lo mettiamo subito. Gavi. Gavi va bene, mi frega un cazzo. CDC. Zakaria, André, Rice, Kanté, Walsh. André non so se c'è utile, comunque. Zakaria pure, Ligana, bella cagata. Rice, Premier League, che pio. Pio Nugnez e Kovacic. E pio pure Inghilterra. Quindi Rice, secondo me, è top. Ancora Premier League, sì. Secondo me è ancora Premier League, dobbiamo farlo. Servirebbe in altro della Premier. Richards. Veramente, veramente molto buono. Eh, Rudiger. Perfetto. Mi fai un cazzo del Liro, voglio Rudiger. A sto punto Traoré. Manco male, eh. Di Pickford. Dai, manco male, oh. Speriamo ci esca qualcosa di più decente, ma. Van de Venne è top. Bro, servirebbe tipo... Cazzo, Litmanen, bro. Riken. Mamma mia, che zella. Vabbè, Litmanen si può più a... Io l'unica cosa che penso è... Potremmo mettere Bellingham qua e Litmanen qua. Peride. Luis Dias come sub pure non è male. Rafinha gioca solo esterno, quindi sti cazzi. Vabbè, vabbè Rafinha, dai. Ok, sto... Oh, sto draft comunque è fattibile. Almeno c'ho pure delle opzioni. Provo quel Bellingham. Oh, Yamalif, in realtà... Non mi dispiace. Bel super sub che è goloso. Eh, sto draft è già più giocabile. E il gotta Abdullah mid. Perfetto. E andiamo? Ah, vabbè, famoselo in game, cioè... Andiamo, va. Vinciamo sto draft. Vola, bro. Vai, Darwin. Mortacci tua. Oh. Bro, con ste scivolate questo... Già la rotta il cazzo, porco due. Bello. Questo lo segni. Vabbè. Vabbè. Fu tre. Litvanen, un pazzo. Bello, Litvanen. Let's go. Let's go. Ecco. Fun. Bello, Futre. Let's go. Bella, mamma mia. Palletta di Bellingham. Palletta. Molto bene. Secondo game del draft. Andiamo, dai. Forza. Bravo, Jude. Pulito. Easy. Madonna. Ciao, Cristiano. In arte, Zano XVI. Per caso, verso mezzanotte, ti faresti un clubbino? Non mi ammazzo prima, Zanzo, sì. Bro, sto game è strano, eh. Vengo. Dove usci col portiere, purtroppo. Bro, sto game è troppo strano, raga. Vai, Nunez. Pulito. Sei una merda. No, raga. Ci sono delle stranezze in questa videopartita, eh. Oh, frate, ma chi è quella gnoma lì al centrocampo, frate? Chi è questa bionda? Oh, bro. Oh, oh. 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 Bravo. Bravo. Ma? Questo game degli UFC è strano, eh. Bravo, Darwin. Bravo. Ok, meno male, raga. Meno male. Via, oh. Andiamo next, per favore. Next. Quindi, praticamente, ho preso un gol di una ribattuta su un 360 di Werner. Subito. Vai così, vai Darwin, let's go. Difesa 5 è difficile da tancare, eh. Però mi scatti o mi guardi? Cioè, decidi, non lo so. Ah. Darwin. Ma quello? Ma quello? Let's go, Litmanen. Next. Ultima. Finalissima. No, no. Litmanen sta a giocare, eh. Sta a giocare. Non mi sta a dispiacere. Questa è interessante, però, eh. Questo mi pare un po' più bravo, eh. Ah. Player Lock. Boh, l'abbiamo perso. Dai, ragazzi. GG. Eh, ne sa. Ne sa. Player Lock, time finish verdi. Eh, difende molto bene. C'ho qualcosa io che posso mettere qua? Io ci avrei Yamal. Aspetterei. Eh. Mamma mia. Pickford immobile. Ora è draft. Cioè, ma che è Vinicius le hao pure. Ha messo Vinicius. Sia Vinicius che le hao. Ma come fanno a fare sti draft? Oh. Io ho trovato Nugnez. Ho detto, che culo. Ah. Porco Dio. Un croce. Qua non so, man. Eh. GG. È all'ultima, bro. Eh. Ah, pure Vinicius Siff. Vabbè, porco Dio. Ma ammazzo. È difficile recuperare. Non ho fatto un tiro, frate. Frate pare che sta selezionando tutta la squadra. Ma che vorrei dire sta roba. Eh. Vaglia a non piacere. Cioè, il discorso è. Glieli puoi fare tre gol? Sì. Puoi non subirli più. Secondo me no. Questo è bravo. Non subì gol. È veramente difficile contro questi. Never give up. Porco Dio, che palla. Mamma mia. Eh, ragazzi. Lo sai che so io? Un coglione suo. Porca Madonna. Porco Dio. Ok. No, no. No. Non l'ho mai vista questa cosa. Mentre il mio Big Ford si guarda il pollicione del piede. Quando fanno quei passaggi. Ma mi ammazzo. Ci servono cambi al volo. Dovevo mettere Yamal de qua e Futre de qua, tipo. Eh, pure lui ha preso due pali comunque. Dai oh. Ma come cazzo recuperano da soli questi? Ah, buon passaro. Innanzitutto Yamal che cazzo fa? Cioè, che cosa fa? Ma se parti d'accia. Sto a sudare, porco Dio. Ragazzi, sto sudando. Per due 25k di merda. Sto sudando. Come faccio a segnare? Come si segna? Come posso segnare? Ma vi pare che stanno a giocare da soli, sua. Sto d'accordo. Non è un'impressione. Parco Dio. Litvanen. Lo fa. Che partita, porco Giuda, raga. Penso sia stata la partita più difficile che ho giocato quest'anno, comunque. 3-0, 4-3, supplementari, macello, due pali su, ai tiri miei non entravano mai. Madre del signore, oh. Ah, raga, pronti? Due golosissimi 25k in arrivo? Eccole. Due bei 25k. Il mio premio per essermi rotto il culo, letteralmente. Forse era meglio quitta sul 3-0, ragazzi, piuttosto che dare l'anima al diavolo per vincere questa partita. Impossibile, poi, tra l'altro. Pacchetto orari, vai. Buono. La prima WL del gioco, frate, sarà venerdì prossimo. E noi facciamo la 12 ore venerdì prossimo, quindi... Venerdì farò proprio tutta la WL, tutta la prima WL in un giorno. Mamma mia, ragazzi, che pacchi e po... Che premi! E vai! Il mio draft vinto per un bel single. Ottimo. 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 Grazie a tutti.